Cattinare Giannettino Doria e ci disse, Giannettino, mettetela qua e tu qui la cinesco lo spagnolo e fate questo tipo rituale così come i spagnoli di sì un cattinare Giannettino Doria un sorricoltava il suo rituale che un cattinare Giannettino Doria ogni messa capaceava giocava così e guarda peggio un sorricoltava come era il suo rituale peggio un sorricoltava un giorno mentre Giannettino Doria camminava un film successivo Cattinare di grosso la pesita l'ignoranza e si pezzicavano e si pezzuiavano ma un cattinare Giannettino era sentita dietro e ci disse a peggio piaccio la sabine che c'è natica il compasso ma chi ha? e tale a questa volta ha giocato un momento come chi ci va la vita non parlare? e ci disse Pedro Fortuna e che ci vuole? c'è la pazzurina e che fortuna fai la sabuta? non ci vuole mia vai a questa camerata a mangiare a peggio per la pazzurina e fu per questo e si presentavano i palermitani ammassa la cattedrale erano tutti quanti assettate tutti quanti preparate per il battemane picchio e non l'hanno uscìo buca il medale Giannettino Doria e ora si faceva assata proprio l'arcivesco lo spagnolo eravano giolato arrivava a peggio futuro l'arcivesco lo spagnolo aveva tutti i presenti com'ora io c'è da l'arcivesco e dice con una mano uuuu e il peggio futuro nel l'arcivesco l'arcivesco ci ha rispondito si appaaauuuuusiii e che era avanti a un certo punto l'arcivesco lo spagnolo e mi sciame e il peggio futuro è stato coca e poi mi giugno il peggio è un lato e arrivi l'arcivesco lato appaaauuuuusiii finiamissi tutto contenti felici si abbrassati i pali in metà erano veramente contenti appassati se vediato e ha scutacciato se la sa quando mi lasci il vescovo io nella sagesia non ci annettino d'oro e ci disse di cose giuste ma ciò che c'è fortuna si afferava vero afferava questa monta ma quale c'è un signore quando ci disse uuuu Dio è uno il Dio disse si ma si divide in tre pace il Dio e Spirito Santo bravo Dio appena ci diceva a me e disse il peccato originale meglio padre che il corpo di Cristo e arribe il simbolo della pace e tutti erano contenti ma com'è che sapeva questo segnale quel signore non c'è più lo sai che un Gennetimotoria si allargava ci disse che faccio proprio un carino di vecchi ottico stanto le sacrazie li capivano le sacrazie e così fu che si salutarono e quando poi un Gennetimotoria si la faccia a cussare io le faccio e ci dice via ma com'è che sapeva tutti i segnali parla vedo qualcuno da lei ci dice Gennetimotoria ma vedi che come l'azione ma dici che era spagnolo le ci veste quale è che non c'è appena vengono lì ci dice pure perché mi fa bene la vera c'è su quel cuore lì dove il tuo pane arriva da dove non c'è mezzo grazie 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 grazie